buongiorno buonasera buon pranzo buona cena in base a quando state guardando questo video con un gatto che amalgola di sotto che gnagola di sottofondo io vi do il benvenuto a questo nuovo video dove vi farò vedere la mia collezione di carte pokemon vi pronuncio già non è qualcosa di eclam e non so parlare non è qualcosa di eccezionalmente grande costoso cosa ma come vi dirò poi anche durante il video è tutta roba che ho sbustato nell'effettivo ho comprato veramente veramente poco e tutta roba che sbusto e basta quindi ho questa ludopatia e cerco di curarmela così ovviamente non ha senso perché giustamente non ho completato nessun set perché andando a sbustare è un po' difficile a meno che non sbusti 3000 euro ogni volta è infattibile non ho quella cifra e anche se ce l'avessi si la sbusterei assolutamente non andrei comunque a comprarle le carte singolarmente e niente direi che vi lascio direttamente poi con tutto il resto del video tra le altre cose vi ricordo di iscrivervi al canale perché quasi nessuno di voi lo è una cosa gratuita che non vi costa niente e che potete ripensarci quando volete quindi iscrivetevi cioè cazzo iscrivetevi ok eccoci qua con gli album non ho acceso nessuna luce intorno rispetto alla intro perché appunto se no c'è troppo riflesso partiamo con 151 e vi faccio un attimino vedere che cos'ho allora ho praticamente tutto il set base diciamo così l'unica cosa che mi manca qua è un hardbook intanto che vi parlo vi giro le pagine giusto per non perdere troppo tempo ma così almeno facciamo una cosa un pochettino più veloce senza rompervi troppo il cazzo mi manca questo whipping bell che è introvabile l'ho visto mezza volta in fiera alla modica cifra della reverse di 9-10 euro quindi senza un senso ma andiamo avanti questi qua abbiamo tutto come potete vedere qua mi manca quella dopo tanghela che non mi ricordo che carta è scusatemi ma ho un vuoto completo in questo momento qua continuiamo ad andare avanti abbiamo tutto tutto completo qua sopra ci manca il Moltres EX e Moltres Dapsus EX che è lo stesso che c'è nelle promo ma invece è effettivamente quella da contare nel set e poi qua abbiamo tutto il resto delle carte vi faccio vedere un attimino quello che ho ho questo Wigglytuff che sono trovati tipo due in due pacchetti di fila ma non importa poi abbiamo un tanghela un polywheel questo tanghela qua l'avevo comprato qualche mesetto fa a tipo 5 euro adesso l'ho visto in fiera a una decina a quindicina d'euro non so stanno lievitando in una maniera incredibile le carte di 151 poi abbiamo Mew e l'energia oro questo qua è tutto quello che ho di 151 perché io ho questo bruttissimo vizio che quello che prendo poi spacchetto non vado a comprare carte singole perché sono un ludipatico di merda o meglio io e le mie ragazze siamo dei ludipatici di merda non vogliamo comprare le carte vogliamo sboostarle ma forse siamo arrivati al punto che è meglio comprarle perché a quest'ora 151 l'avevo finito con i soldi che ho speso per sboostare se l'avevo si fatto quando effettivamente ho preso tutto quello che ho sboostato e niente poi andando avanti qua ho le energie sto cercando di mettere quelle oro mi manca qualcosina di oro qua ci sono le promozionali che se riesco vi avvicino un pochettino eccole qua le promo ok si vedono un attimino meglio ma intanto sono quelle che avete visto un pochettino tutti già poi qua girando pagina abbiamo le Southern Island che devo finirle per l'appunto perché io poi quando mi prendo a sboostare non continuo più gli altri set per quello se non spendevo soldi in altre stronzate le Southern Island erano finite ma adesso costano un botto anche queste ed è bellissimo perché è un set completo che si completa una carta con l'altra è veramente bellissimo sarebbe bello anche avere l'album ma è a prezzi invivibili l'album delle Southern Island sono 18 carte 9 e 9 poi andando avanti abbiamo Jungle Jungle che l'ho praticamente finito mi mancano un botto di un po' di comuni che non sono riuscito a trovare in fiera qualcosina di oro da questa parte ma quelle che un po' più dispendiose diciamo così Jolton, Flareon le ho prese, lo Snorlax lo sono riuscito a scambiare in fiera oh ok mi sono incastrato sullo schermo poi qua abbiamo tutte le comuni come vedete mi mancano queste comuni qua cioè carte che costano veramente poco su Card Market ma in fiera non le ho trovate perché nessuno si porta le comuni di Jungle in fiera molto gentilmente sono veramente gentili quelli che vanno in fiera perché poi per l'appunto qua è tutto completo Jungle e infine qua in fondo finiamo ovviamente con Jungle qua in alto e queste carte qua sono carte che avevo io da piccolo che ho deciso comunque di mettere dentro c'è questo mio Black Star promo Articuno, Zapdos mi mancherebbe molto se ci ho cacciato dentro questo Onyx Brock e niente Teddiurso, un addestramento e un pochettino di roba ma sono carte che veramente sono distrutte ragazzi adesso invece vi faccio vedere una robina un po' più me perché è il set di Ossidiana Infuocata che abbiamo solo sbustato qualcosa Elite Trainer Box e qualche bustina a caso quindi ve lo scorro molto molto velocemente ma solo per far vedere la carta che ho preso in fiera come vedete lì c'è un po' Omotex ma come detto non c'è praticamente niente però comunque io ve lo scorro veloce giusto per far vedere quello che ho qua c'è un po' di tutto ma è tutto vuoto mi mancano un botto di comuni cioè le comuni volendo prendo in lotto e le butto tutte dentro e comunque sono poi sempre le foriserie che mancano che ce ne sono una marea giustamente perché a metterne poco ho preso questo Scyzor che adesso ve lo faccio vedere meglio e poi l'unica cosa che avevo trovato era questo Revavrum e il Ortiz qua allenatore full art vi prendo lo Scyzor e ve lo faccio vedere questo è lo Scyzor che ho preso l'ho scambiato con un Eternatus Vimax di non mi ricordo quale set scambio la pari stavano tutti e due sui 7 euro e ce lo siamo scambiati così questo invece è proprio un raccoglitore a parte davanti non c'è nessun tipo di set è il mio personale diciamo così davanti ci sono un po' di promo carine queste due dei 25 anni molto molto carine e l'unico che effettivamente vale qualcosina è il Charizard Vimax Shiny ma poi abbiamo veramente poca roba qua dentro non ho preso niente in fiera dei 25 anni di Pokémon qua c'è qualche promo che ti davano al GameStop questa qua l'ho lasciata perché è la prima volta che ho comprato carte Pokémon e avendole comprate da Federic mi piaceva tenerlo come ricordo per questo mio approccio al collezionismo Pokémon e se le bierà la prima carta che chiudeva le bustine in un ordine di card market allora ho deciso di tenerla appunto per questo mio primo approccio un po' sentimentale qua intanto vi faccio vedere quello che ho del 25esimo anniversario e sono tutte carte che ho sbustato non ho comprato praticamente niente proprio a sé se non di jungle tutto il resto invece è tutto sbustato per quello che dicevo con i soldi che ho speso per sbustare potevo tranquillamente finirli praticamente tutti i set ma non importa preferisco essere ludopatico e povero piuttosto che povero ma con i set completi e niente poi qua dietro come vedete non c'è niente poi qua abbiamo invece destino di Paldea con le cartine shiny i baby shiny alla fine che adesso poi vi farò vedere ma vi anticipo già non ho quasi niente comunque qua dovrebbe essere tutto completo non vorrei dire una cazzata il set principale chiamiamolo così dovrebbe essere praticamente tutto completo vedete qua c'è tutto esattamente tutto completo stranamente ho dovuto anche comprare questa qua in fiera perché non l'ho trovata mai faccio vedere un attimino le carte che ho baby shiny ho questo pineco poi abbiamo questo slowpoke andiamo avanti che è tutto vuoto perché giustamente non droppano un cazzo non ho portato tantissimo mister mime qua poi abbiamo taurus e questa energia l'ho messa giusto per segnarmi più o meno le carte essendo tutto vuoto per evitare di contare ogni volta poi abbiamo macro abbiamo il pigiot qua e qua sopra io sono specchiato non so poi dove puntare dodrio poi andando avanti abbiamo vuctrio che l'ho trovato due volte quindi va bene così e qua abbiamo il mio però alternative art che è una crema e anche le due enemi quella normale diciamo così è l'alternative e poi basta perché qua se non sbaglio finisce il set e poi dietro è tutto vuoto come detto è tutta roba che ho preso ma ho sbustato cioè non ho comprato praticamente niente di questa roba qua e questo Mew è veramente una crema intanto Vultrio vuole scappare questo Mew è veramente una crema come carte single sciolte invece vi faccio vedere infine l'album che sta facendo la mia ragazza l'album personale con dentro Eevee e all'esterno tutte le Eeveelution non mi ricordo cosa manca qua dovrebbero esserci tutte giolte non c'è Vaporeon non mi ricordo cosa manca qua ah Silveon Silveon manca manca il fantastico Silveon qua poi andando avanti abbiamo un po' di cosine vi faccio vedere anche le cosine un po' più carine come vedete qua c'è un altro Charizard che avete visto anche in Bwam perché avevo preso due litri in airbox qua ci sono Starter Airbar Starter Fuoco mi è messo abbastanza bene ho aiutato a farlo ma è molto molto carino Starter Acqua con questo Empolon molto carino di Matchless Fighter qua invece abbiamo le promozionali di Spade Scudo di Champions Spat che mi devo girare nella libreria a leggere perché non mi ricordo come si chiama ho il set allenatore che è coperto ma non mi ricordo come cazzo si chiama comunque andiamo avanti abbiamo un pochettino qua tutto abbiamo gli starter Erba con Guerrilla con Baby Shiny che era di un set vecchio e sempre destino non di Paldea ma quello precedente destino splendente esattamente Guerrilla Boom Baby Shiny qua abbiamo qualche V Max qualche V questo Snorlax di Pokémon Go è bellissimo poi abbiamo un doppione di Pikachu con la pagina elettro di Pokémon un po' più carini elettro qua pagina Pokémon Fuoco qua dovremmo togliere Bleep Bug cioè stona un po' Bleep Bug perché sarebbe la pagina Psico e Bleep però l'hanno fatto Erba e quindi niente qua dietro abbiamo Wigtaf che vi avevo detto prima un altro Impone con la pagina di Pokémon tipo Water fine qua abbiamo questa evoluzione di Dragonite che è bellissima qua sopra abbiamo in teoria i tre cani che sono poi da finire qua sotto i tre uccelli mancano Zapdos e Raikou Pokémon bellissimo questo Sassian con la spada in bocca pagina giapponese con delle cartine giapponesi che non vi ho fatto vedere perché non ho tantissimo anche lì e invece alla fine qua c'è il vorremmo fare la pagina delle iniziale con Eevee con le Evolution ma o Vimax o Full Art comunque e metterle qua per ora abbiamo solo Espeon e Eevee che è di destino dell'Elite Trainer Box qua in fondo abbiamo invece questo Grey Ward che è della team della collezione da tre con i Vuktyro dopo che avevo detto prima e Mimikyu dell'Elite Trainer Box vi faccio infine vedere quello che è esposto in libreria vi faccio immediatamente vedere la collezione di Miaos Carada che c'era dentro questo qua con oddio non so come stare mi sento stortissimo comunque c'era dentro questa collezione qua molto molto carina l'unica cosa che non c'è la base come quella di Charizard che vi faccio vedere in questo momento oddio potremmo mettere dritto madonna tutto storto poi questa è quella che vi dicevo di la collezione di Charizard che dentro al mio raccoglitore quello arancione c'erano i Charizard quelli promozionali e questa qua invece è la carta di Charmander promozionale che è bellissima che si trova se non sbaglio dentro all'Elite Trainer Box dentro la collezione di Charizard con il Charizard shiny terra cristallizzato ti danno questo portacarta che a differenza di questo può stare in piedi molto molto bellino e carino mettiamolo qua che si veda poi abbiamo queste due cartine promozionali del 25esimo anniversario di Pokémon dentro alla box e c'erano queste due metallizzate mai tolte da qua dentro mai le toglierò perché non si sa mai che si graffiano e infine abbiamo la cartina un po' più bellina la mia prima cartina gradata vi dico due parole di questa carta veramente una roba molto molto veloce dirvi perché l'ho presa innanzitutto l'ho presa 8 e non 9 che c'era allo stand di qualche anno fa a Torino per il semplice fatto qualche anno fa se non sbaglio l'anno scorso a Torino molto semplicemente perché non avevo non avevo spendere quei 40 50 euro in più per avercela gradata 9 ho preso questa qua perché oltre che è del 2020 ed è l'anno in cui ho iniziato a giocare a Pokémon con Spada e Scudo dopo averlo abbandonato completamente da Diamante e Perla sul DS avevo fatto Timeskip fino a quel momento e quindi mi sembrava una cosa molto molto carina e anche un po' sentimentale diciamo così del 2020 e soprattutto perché mi affascina sta cosa delle carte che magari vengono distribuite in un solo punto in un determinato momento e fanno il giro del mondo vengono gradate arrivano qua arrivano ai miei mani chissà da quante altre mani sono passate perché questo qua è il Pikachu Special Derivery dato in Canada al Pokémon Center e quindi è veramente qualcosa di clamoroso è veramente veramente bello mi piace non l'ho pagata neanche troppo l'avevo pagata 110 120 una roba del genere il suo valore ha mantenuto ma sinceramente non me ne frega letteralmente un cazzo è vero c'è sempre da dire anche il valore delle carte per chi lo volesse sapere ma non mi interessa particolarmente perché sennò appunto non andrei a sbustare ma andrei semplicemente a comprare carte e basta e niente ragazzi la collezione è finita qua come ve l'ho detto non ho tantissimo ma è appunto per farvi vedere un attimino quello che ho dietro adesso mi sposto anche da questa parte così mi sentirete un po' più lontano ma vedete tutta la roba che ho qua dietro e niente io vi ringrazio per aver visto il video e noi ci becchiamo con un prossimo grazie a tutti